L'Aronautica Militare, nell'ambito della missione che la Repubblica affida alle Forze Armate, contribuisce in termini di grande valore alla difesa dello Stato democratico e delle regole della comunità internazionale, che sono essenziali per il progresso pacifico e per la coesione fra le nazioni, che speriamo di ripristinare. Questa è la vocazione che abbiamo sempre coltivato come Repubblica Italiana. È un impegno reso ancor più stringente dall'instabilità internazionale, provocata e indotta dall'aggressione russa all'Ucraina e dalla violenza del conflitto in Medio Oriente, innescato dal cudere attacco terroristico di Hamas, con la reazione di Israele a Gaza e le tante vittime civili, con le gravi azioni contro la libertà di navigazione nel Mar Rosso.